Capire che i medici hanno un atteggiamento che è avverso a rischio, ma avverso a rischio per la tutela delle persone, quindi non si deve sorprendere che le affermazioni che sono state fatte rimangono tali, senza contare poi il fatto che l'effetto delle riaperture si vede dopo 4-6 settimane. Quindi diciamo, qui la cosa che cambia è il vaccino, guardi, se si vaccinano altri 10-15 milioni nei prossimi 45 giorni, chiaramente siamo fuori, altrimenti vedremo un aumento dei contagi. Quindi stiamo cantando vittoria prematuramente, lei dice, per ora aspettiamo ancora un po'. Stiamo vedendo un declino dei contagi che è legato alle 6 settimane di zona rossa e lei deve pensare che ci sono due curve che si stanno incrociando, una in calo, che è quella legata all'attività.